I danni del maltempo, una quarantina di persone rimaste isolate nella frazione di Canevale a causa di una frana che si è abbattuta sull'unica strada di collegamento con Correglia Ligure. La strada provinciale 77 di Boasi è stata riaperta al traffico veicolare oggi dopo che sono state ultimate le operazioni di rimozione e successiva pulizia del materiale franato sulla carreggiata ieri, un muro invece franato su un'auto parcheggiata a Paggi nel territorio comunale di Carrasco, a Recco tra Muliniti e Polanesi un grosso albero ha interrotto la circolazione sull'Aurelia, a Pieve Ligure una frana si è verificata poco dopo il bivio per Pieve Alta verso Sol. Una quarantina di persone sono rimaste isolate nella frazione di Canevale, nell'entroterra del Tiguglio a causa di una frana che si è abbattuta sull'unica strada di collegamento con Correglia Ligure in Fontana Buona all'indomani dell'ondata di maltempo che ha coinvolto l'intera Liguria. Ho dovuto chiudere per motivi di sicurezza i due sensi di marcia, spiega il sindaco di Correglia Ligure al manno noce e ho scritto alla protezione civile di Regione Liguria e alla prefettura di Genova perché il comune non è in grado di sostenere le spese conseguenti alla frana. Frana che ha provocato la sospensione del trasporto scolastico isolando i 40 residenti di Canevale che possono raggiungere le loro case solo a piedi. La strada provinciale 77 di Boasi nel territorio comunale di Rumazio è stata riaperta al traffico veicolare questo pomeriggio dopo che sono state ultimate le operazioni di rimozione e successiva pulizia del materiale franato sulla careggiata nel pomeriggio di ieri. Si raccomanda comunque di prestare attenzione sul percorso. Invece un muro è franato su un'automobile parcheggiata senza nessun abordo in località Paggi nel comune di Carasco. I vigili al fuoco del distaccamento di Chiaveri da questa mattina all'alba sono al lavoro con mezzi per liberare le corsie di marcia della strada che collega le frazioni di San Alberto di Paggi, Mora e Campodinè. La riapertura della circolazione non è ancora stata programmata. Sempre nel fine settimana, nella notte tra sabato e domenica a Reco, tra Molinetti e Polanesi, un grosso albero ha interrotto la circolazione sull'Aurelia. Per rimuovere la pianta sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Anas. La strada è stata poi riaperta a senso unico alternato dopo che l'albero era stato tolto dalla careggiata. A Pieve Ligure una frana si è verificata poco dopo il bivio per Pieve Alta verso Sori. A causa dello smottamento la viabilità è stata disciplinata a senso unico alternato. Sarebbe a rischio chiusura il centro diurno di Seste Rilevante per la cura dei disturbi del comportamento alimentare. Lo rivela la Fondazione Fiocchetto Lilla che sostiene come il centro stia affrontando un lento e preoccupante declino. Negli ultimi anni ha accolto e curato centinaia di pazienti offrendo un supporto cruciale per le persone affette da disturbi del comportamento alimentare e le loro famiglie. Quattro anni fa si è ripotizzato l'ampliamento e il trasferimento del centro al terzo piano dell'ala est della struttura. L'emergenza coronavirus aveva però bloccato il progetto. Oggi il servizio è ospitato negli spazi della dietologia al quinto piano. I pazienti sono in costante aumento mentre le risorse umane dedicate alla cura stanno diminuendo. La situazione è complicata dalla mancanza di personale medico specializzato e la Fondazione è dovuta intervenire per inquadrare e sovvenzionare il lavoro delle professioniste che si occupano delle attività di sostegno. In vista di venerdì 15 marzo, giornata nazionale dedicata a chi soffre i disturbi del comportamento alimentare, la Fondazione chiede dunque a Regione Liguria e ASD4 del Tigugno di prendere coscienza della situazione. Da domani, martedì 12 a venerdì 15 marzo, Regione Liguria parteciperà al MIPIM di CAN, evento annuale che raduna i più importanti operatori del settore real estate, dell'immobiliare e dell'edilizia. Lo scorso anno furono 22.500 i visitatori accreditati, 6.500 gli investitori, 90 i paesi rappresentati e 30 gli stand. Tra i progetti che Regione Liguria illustrerà figura anche il nuovo porto Caloriva di Rappallo che, dalla prossima estate, sarà pronta ad accogliere armatori e turisti con 253 omeggi, due ristoranti, la clubhouse e le attività commerciali. Dopo l'incontro che si è svolto sabato scorso, organizzato dal Comitato contro il depuratore di Chiavari, incolmata a mare, si continua a parlare dell'opera. Tra i presenti c'era anche la consigliera comunale di minoranza, Silva Garibaldi, che dice che finalmente c'è una maggiore presa di coscienza da parte di tanti amministratori locali della pericolosità e della criticità di un'opera il cui progetto è obsoleto e cercare di quadrare il cerchio di una collocazione errata. Intanto è annunciata la presentazione in consiglio regionale di un ordine del giorno che, se approvato, impegnerebbe Regione Liguria a rivedere il progetto in base alle nuove normative europee e alle direttive del Ministero dell'Ambiente. L'auspicio di Garibaldi è quello che il documento riceva al voto favorevole dei consiglieri regionali del Levante Ligure. Fa pugni con il fratello ma poi minaccia e aggredisce anche i poliziotti intervenuti. E' accaduto a Rapallo. Gli agenti del commissariato rapallese sono intervenuti in piena notte in un palazzo, chiamati perché si sentivano delle grida di aiuto. Nel portone hanno trovato due fratelli già noti alle forze dell'ordine che litigavano e portavano i segni di una colluttazione sul viso. Quando i due hanno ripreso a picchiarsi gli agenti si sono frapposti e uno allora 23 anni prima li ha minacciati di morte poi ha colpito con forza uno di loro al petto con entrambe le mani. Nella collutazione l'agente ha riportato contusioni multiple con prognosi di cinque giorni al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Il giovane è stato denunciato per minacce e resistenza pubblico ufficiale, per lesioni personali ed è andato per processo per direttissima. Con la chiusura del cantiere sono finiti in questi giorni i lavori di asfaltatura in via Cornice Golfo Paradiso e lungo i lati della careggiata sono stati sistemati i cestini getta carta che prima non erano presenti. L'intervento si è reso necessario in seguito all'ammodernamento della fognatura realizzato da Irene in sinergia con l'amministrazione comunale di Recco permettendo di eliminare gli annosi problemi di sversamento fognario in quella zona della città che causavano continui disagi ai residenti oltre che danni all'ambiente.